Dopo aver preso fisicamente forma, il parcheggio realizzato a Roiano nell'ex spazio della Polizia Stradale incomincia ad avere contorni pratici più chiari per i cittadini del Rione. La tariffa per chi lascerà l'automobile in orario serale e notturno sarà di 50 centesimi all'ora, come dichiarato questa mattina dal sindaco Roberto Di Piazza, che proprio oggi ha fornito alcuni dettagli che riguardano l'intero progetto, in primis la fine del periodo dei collaudi. Oggi ero con esatto, stamattina che adesso prendono il parcheggio, hanno finito, c'erano alcuni spandimenti, la ditta è intervenuta, al primo di febbraio 1.400.000 euro di alberature. Vedrai cosa avviene fuori di Roiano. Però, cari concittadini, per fare un collaudo in Italia servono sei mesi e sei mesi sono passati. Adesso ho deciso ieri che faremo 50 centesimi di notte in maniera dalle 9 di sera alle 8 del mattino, uno potrà mettere a 50 centesimi l'auto spendendo 4-5 euro, insomma, però è protetto, e invece di giorno sarà rotazione, eccetera, eccetera. Signori miei, è tutto complicato. Se pensate che Roiano ha cominciato a occuparmene nel 2003, siamo nel 24. Questa è la realtà. Sposta la caserma della postrada. Fai questo, fai quell'altro, ma questi sono i tempi, i tempi purtroppo in Italia, perché abbiamo mille leggi. L'appalto sul verde pubblico, sugli arredi, l'area cani e i giochi per bambini porteranno il cantiere alla sua chiusura, dopo aver visto nel tempo abbattimenti, rimozione delle cisterne, la sistemazione delle volte del sottostante rio Martesin, l'abbattimento del muro che delimitava l'area, la posa dei sottoservizi, la realizzazione del parcheggio e dell'asilo. L'ultimo passaggio riguarderà proprio le aree esterne, che per chi ha buona memoria sono state oggetto di qualche polemica per quanto visto sulla carta, ovvero sul fatto che alberature e zone verdi sarebbero per qualcuno poca cosa rispetto a ciò che richiede la cittadinanza. Non resta che aspettare per poi tirare le somme.